Ryder Cup 11, tra le edizioni da ricordare sicuramente 2012, Medina, the miracle of Medina o the meltdown of Medina, a seconda della squadra che lo nomina, il miracolo o il collasso di Medina. L'Europa che va a recuperare una valanga di punti tra il pomeriggio del secondo giorno e i match play singoli. Era ormai data per spacciata e invece ha portato a casa il bottino. Questa è la magia del golf, questa è la magia della Ryder Cup. Il match non è finito finché non hai conquistato l'ultimo punto che ti serve per vincere. Hai mai giocato un match che pensavi di aver già ormai vinto, ce l'avevi in pugno e l'hai visto sfumare proprio nelle ultime buche? Scrivilo qui sotto e perché no, tagga chi ti ha battuto o chi tu hai battuto. Grazie.